Che festa natalizia divertente! Guarda, tutti gli invitati sono venuti in costume! Dobbiamo sembrare uniche! Oh, corna di renna! E gli ornamenti natalizi! Possiamo fare i capelli natalizi! Separa alcune ciocchi sottili nella parte anteriore. Intrecciale insieme e legale. Decorale con piccoli addobbi natalizi. La mia conciatura d'albero di Natale è pronta! Metti un rotolo di carta igienica sulla testa e avvolgilo con i capelli. Metti le corna di renna, gli occhi e il naso. Wow, i vostri capelli sono così creativi! Una renna e un albero di Natale! Ragazze, siete le star della nostra festa di Natale! Si deve mettere la cuffia in piscina! Ma l'ho dimenticata! Vediamo cosa posso usare! Nastro adesivo? No, è una cattiva idea! Oh, ho delle maschere viso! Grande idea! Posso mettere le maschere sulla mia testa. Io ho una cuffia da bagno. Posso andare in piscina. Sono così annoiata! Farò dei selfie! Oh no, me ne ero completamente dimenticata! C'è un concorso per il miglior selfie con i capelli delle feste! Mi serve un'idea! Userò il gel per lisciare i capelli. Ma è troppo semplice! I glitter sono la soluzione! Prima che il gel si asciughi, metto dei glitter rosa sui capelli. E aggiungo un albero verde. I miei capelli sono fantastici! Papà, posso andare in biblioteca? Devo studiare! Certo, tesoro! Sei una brava ragazza! Ce l'ho fatta! Il piccolo angelo di papà si trasforma in una rock star! Wow! Guarda! Ti manca solo una cosa! Ti faccio un fulmine con l'ombretto glitterato dorato! E non andrai di certo in biblioteca! Specchio specchio delle mie brame! Dimmi che trucco fare! Oh! Un albero di Natale! Userò tutto ciò che trovo! Un ornamento scintillante farà bene ai miei zigomi! E posso usare questa ghirlanda per i miei capelli! Metto un filo di strass sulla riga! Ora un look fantastico per una festa di Natale! Ho un appuntamento importante dopo il lavoro! Oh no! I miei capelli sono sporchi! Non posso lasciare che il mio ragazzo mi veda con i capelli così! Conosco un veloce life hack! I capelli corti possono essere lavati direttamente nel lavandino! Fatto! E posso usare un asciugamani elettrico invece di un phon! Inoltre li ho asciugati a testa in giù! Così hanno molto più volume! I miei capelli sono pronti! Wow! Sei fantastica! Oh! Che bella testa riccia! I ricci della mia amica sono fantastici! Vorrei che anche i miei capelli fossero così! Caroline! Cosa stai guardando? Voglio i capelli ricci! Ma i miei sono super dritti! Non essere triste! Prendi delle salviettine umidificate! E cosa me ne faccio? Mi asciugo le lacrime! Ti richiamo! Smettila di piangere, regina del dramma! Le salviettine umidificate possono arricciare i capelli velocemente! Avvolgi le ciocche di capelli sulle salviettine umidificate! Arrotola le strette come fossero bigodini! Perfetto! Ora usa un asciugacapelli! Togli le salviettine umidificate e scuoti i ricci! Hai finito! Che grande life hack! Grazie mille! Devo lavarmi i capelli! Userò il mio shampoo preferito! Oh no! L'acqua! No! Ora cosa faccio con i miei capelli insaponati? Li modello! Spazzolo indietro i capelli insaponati e li asciugo nella stessa direzione! Ora ho dei bei capelli con un look bagnato! Ho un aspetto fantastico! Non c'è bisogno dell'acqua! Caroline sta facendo yoga! Namaste! Ma i suoi capelli continuano a caderle sul viso e a bloccare i suoi chakra! Stai calma! Se non hai un elastico per capelli, puoi usare un calzino! Taglia l'elastico da un calzino! E fai una coda di cavallo! E' così rilassante! Grazie calzino! Sei libero! Come posso asciugare i miei capelli se il phon è rotto? I miei capelli ricci ne hanno bisogno per sopravvivere! Oh! Un calzino! Grazie universo! Ora posso asciugare i miei ricci! Saranno belli e ordinati! Oggi sono arrivata presto! Posso truccarmi mentre non c'è nessuno! Porto sempre i miei trucchi con me! Ma dove sono i pennelli? Li ho dimenticati! Ma so cosa posso usare! Legherò le estremità dei miei capelli con dei piccoli elastici e piegherò le ciocche a metà! Posso usare una ciocca più grande per il blush! E' una ciocca più sottile per l'ombretto! Setole morbide e naturali! Userò la punta di una ciocca per applicare l'ombretto liquido! E' grandioso! Ma sfortunatamente il ragazzo per cui mi stavo truccando non l'ha apprezzato! Ho solo sprecato i miei capelli! Finalmente posso togliermi il cappello! Oh no! E' come se fossi stata fulminata! Meno male! Chi ho una barretta di cioccolato con me? Mi serviranno la carta stagnola e una spazzola! Avvolgo il manico E mi spazzolo i capelli! L'elettricità statica è sparita! Ora posso nutrire il mio cervello con il cioccolato! C'è un salone di bellezza qui! Non ti muovere, Jennifer! Ho quasi finito! Ho finito con i tuoi capelli! Ora è il mio turno! Fammi una bella treccia, per favore! Oh! I capelli di Caroline sono così folti! Come faccio a intrecciarli? Oh! Conosco un life hack di TikTok! Un pennello mi aiuterà! Separa alcune ciocchi nella parte anteriore! Metti un pennello nella coda di cavallo nella parte posteriore! Intreccia le ciocchi anteriori! Nascondile sotto la coda di cavallo! Tira fuori il pennello! Wow! Grazie, Jennifer! Grazie, pennello! Caroline impiega un'ora intera per lisciarsi i capelli! Devo squatterli per farli asciugare più velocemente! No! L'umidità no! I miei capelli corti si asciugano all'istante! È così divertente! Ops! Scusa, Caroline! Molte grazie! Ora devo ricominciare da capo! Un invito a una festa di compleanno! Il tema è Natale caldo e freddo! Oh, devo prepararmi in fretta! Cosa dovrei indossare? Che look dovrei cercare? Non va bene niente! No, niente di tutto questo è abbastanza buono! Oh, un fiocco di neve! Cosa posso fare? Hai la mia testa! Wow! Cos'è? Una corona rossa! E l'accessorio caldo perfetto! Wow! Anch'io voglio fare una corona! Ma userò le tonalità fredde! Le nostre corone sono bellissime! Metterò le candele nella mia corona calda! Adesso andiamo a far festa! Cosa posso mangiare per colazione? Un uovo? Caffè? E... I capelli sporchi! Devo fare una doccia! Oddio, ho finito lo shampoo! Ma conosco un life hack! Mi servono un uovo e il caffè! Faccio una maschera nutriente per capelli! Mescolo un uovo con i fondi di caffè! E applico sui miei capelli come fosse shampoo! Adesso sono perfetta! Ricci! 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 No, non funziona! I miei capelli stanno ignorando il ferro a riccia capelli! Niente può aiutarmi! Non sono destinata ad avere i capelli ricci! Uh! La soda! Proverò un life hack! Ho bisogno di uno spruzzatore! Ecco qui! Ora schiaccerò i capelli in questo modo! Wow! La Coca Cola ha funzionato! Grazie dolcezza! La Coca Cola è la migliore hairstylist! Ti sono piaciuti i nostri hack per capelli e make-up? Allora commenta qui sotto e dici quale life hack utilizzerai! Ti truccherai con gli ornamenti? Farai delle conciature natalizie? O dei riccioli con la Coca Cola? E voi ragazzi, iscrivetevi al nostro canale! Mettete like a questo video! E fate click sulla campanella! Non perdetevi nessun nuovo esilarante video di WooHoo!